Camorra, preso latitante, boss del clan di Scampia, era sfuggito alla cattura sette mesi fa nel corso di un blitz anti Camorra. È finita a Giuliano la fuga di Alessio Cuomo, ritenuto elemento di spicco del clan abbinante. Non ha opposto resistenza, gestiva, estorsioni e traffico di droga. L'Itemeloni De Luca, Shine, ripicche personali. La segretaria nazionale del PD boccia la polemica tra governatore e premier sul caso Caivano, ma il presidente della regione ieri ha rincarato la dose. Meloni vendicativa e inadeguata nel ruolo di presidente del Consiglio. Politica irpina in lutto e scomparso a Orisicchio. Si è spento a 71 anni a Santa Paolina il presidente dell'Assemblea regionale di sinistra italiana, ex deputato, aveva l'irpinia nel cuore. Tanti messaggi di cordoglio anche dagli avversari, persona leale e perbene. Emergenza migranti, nuovo sbarco a Salerno. Tra domani sera e lunedì previsto al porto l'arrivo della Geo Barents, che ha salvato 84 migranti nel Mediterraneo. A bordo 20 babini, 19 non sono accompagnati. Il prefetto, ci confermeremo, città di accoglienza. Sannio nel bene confiscato, una sede per i carabinieri. A Benevento, sgomberata una casa già confiscata nel 2015, ma ancora inutilizzata. Ora verrà affidata ai carabinieri forestali. Da libera contro le mavio è un appello ai comuni. Bisogna accelerare le procedure per il riutilizzo dei beni. Buongiorno, questi erano i titoli del nostro Tg. In apertura c'è la cronaca. Dopo sette mesi di latitanza è stato catturato il 35enne di Scampia, affiliato al clan Abbenante. I carabinieri, dopo intercettazione e pedinamenti, lo hanno sorpreso in un appartamento di Giuliano. Vediamo il servizio. Lo scorso 7 novembre era sfuggito all'arresto, ma la sua latitanza è finita la scorsa notte alle 2. Alessio Cuomo, 35enne, ritenuto dagli investigatori contigui al clan Abbinante, che attiva in alcuni rioni del quartiere Scampia, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo era tra i 37 indagati nell'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea ed eseguita dai carabinieri della Compagnia Stella. Era sfuggito all'arresto, ma i carabinieri del nucleo investigativo e del comando provinciale di Napoli, con il contributo del nucleo operativo della Compagnia, non avevano mai smesso di cercarlo. Web patrolling, analisi delle immagini di video sorveglianza e pedinamenti, vecchio stile, hanno portato i carabinieri a Giuliano in Campania. Il 35enne si spostava continuamente, ma le ininterrotte ore di indagini hanno permesso di stringere il cerchio in alcuni appartamenti in una strada chiusa nella cittadina nord di Napoli. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nello stabile, l'uomo era in casa con alcuni familiari, non ha opposto resistenza. Cuomo sarà trasferito nel carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Smantellata dalla Guardia di Finanza di Avellino una rete di imprese in sette province italiane che attraverso operazioni inesistenti per 4 milioni di euro ha evaso l'IVA per oltre 2 milioni di euro. 23 gli imprenditori denunciati ad Avellino, Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì e Bergamo. Le indagini dei finanzieri di Baiano sono partite dai controlli nei confronti di un'impresa che in Irpinia commercia materiale ferroso a cui facevano riferimento altre attività produttive dislogate in diverse città. De Luca Meloni, non si placa la polemica, il governatore Campano dedica tutta la sua diretta social al caso del saluto di Caivano e critica la Presidente del Consiglio. Oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiuderà ufficialmente la sua campagna elettorale da capolista in tutte le circoscrizioni per le europee. Non è escluso che sul palco di Piazza del Popolo a Roma la Premier non riservi qualche parola per controreplicare al Presidente Campano che ieri le ha dedicato un'intera diretta social. Il botta e risposta tra Premier e governatore continua dunque a distanza con il videosermone postato su Facebook con mezz'ora di ritardo rispetto al solito. A giudizio del governatore quella di Caivano è stata una performance un po' volgare studiata a tavolino. Nel momento in cui il Presidente della Regione Campania era andato ad accoglierla e a darle il benvenuto ha ritenuto di proporsi con una performance un po' volgare studiata a tavolino. Noi non avevamo percepito la genialità di questa operazione di comunicazione politica. Devo dire che si è confermata a Caivano una sensazione che io vivo, credo tanti vivono in Italia, di inadeguatezza del nostro Presidente del Consiglio. Diciamola così. Abbiamo avuto la conferma che l'Onorevole Meloni è Presidente del Consiglio a sua insaputa. Sulla vicenda è tornata anche la segretaria del PD, Ellie Schlein, a Sky TG24, che prova a smarcarsi da una polemica che la insegue. Ai cittadini interessa molto poco delle ripicche personali dei politici. Il linguaggio dell'insulto non mi appartiene come non appartiene alla comunità del PD, ha detto la Schlein. Sempre più consapevole che De Luca le sta rubando il posto di principale oppositore del governo. Ma questa è un'altra storia. Appil bassissimo per il prossimo appuntamento alle urne. Manca una settimana al doppio turno elettorale dell'8 e 9 giugno. In tutta Italia si voterà per rinnovare il Parlamento europeo e molti comuni. Anche per scegliere il sindaco e il Consiglio comunale. Ma c'è un altissimo rischio di astensionismo. Sentiamo. Controlla rovescia per il prossimo turno elettorale. Manca in meno di una settimana al doppio appuntamento dell'8 e 9 giugno. In tutta Italia si voterà per rinnovare il Parlamento europeo e molti comuni si sceglierà il sindaco e il Consiglio comunale. Ma se le amministrative suscitano maggiore interesse è davvero bassissimo l'appil delle europee. E si teme che, come ormai consuetudine in tempi recenti, il primo partito sia proprio quello dell'astensionismo. Ma ci sono le elezioni domenica? Non avevo seguito, ma comunque con la confusione e con le solite querelle di questi nostri politici veramente ancora non ho preso posizione. Mi dovrei prima informare e poi magari vedrò. Ma credo che sarà molto difficile riuscire a decidere per l'uno o per l'altro perché poi alla fine si assomiglia un po' tutto. Non vado a votare perché c'è una riunione di condominio. Non so se il paragone vi pare. E sono diverse le ragioni per chi salterà l'appuntamento con le urne. E' il solito fatto che la gente ormai è disillusa, un po' per pigrizia. Inoltre dice che la settimana prossima le temperature si alzeranno a dismisura. Quindi voglia di mare. Per me è importante, per me è importante. E spero che il mio voto, come quello dei miei cari, possano influire positivamente su questo andazzo mondiale, direi proprio triste e penoso. Lutto nella politica irpina muore Raffaele Aurisicchio, storico dirigente della sinistra vellinese, ricordo di tanti compagni e avversari politici. Lutto nella sinistra campana è scomparso all'età di 71 anni Raffaele Aurisicchio, ex deputato nato a Santa Paolina, per anni dirigente anche dell'associazione di categoria CNA. Presidente dell'Assemblea regionale di sinistra italiana, Aurisicchio aveva l'irpinia nel cuore. E' stato un politico tenace e una persona per bene. Da sei mesi combatteva contro una malattia che non gli ha dato scampo. A margine di un incontro sul tema dell'ambiente, molto caro ad Aurisicchio, il ricordo di chi con lui ha condiviso un lungo percorso di militanza politica. Ci lascia una persona di grande spessore culturale e umano, un buono, una persona di grande disponibilità, di grande altruismo. Era un po' il nostro Bersani, la persona equilibrata a cui fa riferimento, quello che ti indica la strada quando il cielo si fa buio. Nel corso della nostra militanza abbiamo avuto non pochi scontri, visioni differenti. Tant'è vero che poi quando dai DS abbiamo costituito il Partito Democratico le nostre strade si sono divise. Ma nonostante questo c'è sempre stato un filo, un rapporto, un dialogo, una collaborazione. Raffaele è un esempio indelebile della buona politica al servizio della comunità. La politica disinteressata, la politica a favore degli umili, la politica competente. Anche dai avversari politici il ritratto di una persona leale. Gianfranco Rotondi ne ricorda il garbo e la fermezza di una sinistra che non nasceva nel palazzo ma si forgiava nelle lotte per i più deboli. Domani alle 15.30 i funerali nella Chiesa Madre di Santa Paolina. Bradesismo nei campi Flegrei, un piano di mobilitazione, fondi per gli sfollati e quanto emerso dalla riunione con i sindaci nell'area e con il capo della protezione civile. Volontari e tecnici della protezione civile in arrivo da tutta Italia per sostenere attività e verifiche in corso nei campi Flegrei, contributi da quantificare per gli sgomberati che non accettano sistemazione in albergo, due centri di accoglienza immediatamente attivabili nelle ore successive a eventi sismici e poi adeguamento della segnaletica di emergenza. Questi gli argomenti salienti affrontati nella riunione operativa convocata per fare il punto sulle attività avviate dopo il sisma del 20 maggio. Un incontro tecnico nella sede della protezione civile a Monte Ruscello con il capo della protezione civile e i sindaci del territorio. Un incontro molto proficuo, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli. Abbiamo analizzato le varie criticità che sono emerse e sicuramente potenzieremo e lavoreremo su queste criticità che in maniera naturale emergono soprattutto quando poi si passa da uno stato ideale, virtuale, a uno stato concreto praticamente. Si è naturalmente confermata l'importanza di avere degli investimenti sulle infrastrutture, soprattutto e anche sugli edifici pubblici strategici come le scuole, le carceri. Si è lavorato su alcune criticità in termini anche di comunicazione, di interconnessione con gli uffici e quindi è stato fatto un briefing su quello che è stato lo stato di emergenza che si è avuto in questi giorni. Intanto è ancora attivo il COC. Il COC è ancora attivo. A me oggi abbiamo una riunione plenaria, stamattina abbiamo fatto una riunione col CCS. Stiamo lavorando in maniera spedita. Il porto di Salerno si prepara ad accogliere il nuovo sbarco di migranti tra domani sera e lunedì. È previsto l'attracco della Geobarens che ha tratto in salva 84 migranti nel Mediterraneo. Vediamo. Per la 34esima volta Salerno sarà porto di accoglienza e di speranza. Tra domani sera e lunedì mattina è previsto l'attracco della Geobarens, la nave di medici senza frontiere che ha tratto in salva 84 migranti nelle acque del Mediterraneo. 81 sono uomini, 3 donne arrivano prevalentemente dai paesi dell'Africa subsahariana. Questa mattina in prefettura si è tenuta una riunione organizzativa per allestire la macchina dell'accoglienza. Non ci risultano situazioni sanitarie problematiche ma queste informazioni sono le prime informazioni. Naturalmente poi man mano cercheremo di capire sempre meglio qual è la situazione a bordo. Un'organizzazione ormai rodata e che da sempre si è contraddistinta per spirito solidale ed accogliente. Salerno risponde con un grande spirito di accoglienza e mi auguro confermando anche positivamente quello che è l'aspetto organizzativo che ormai è consolidato da tanti anni di sbarchi. Sapete che festeggiamo quest'anno proprio dieci anni di sbarchi. Non solo come Salerno ma anche personalmente perché il primo sbarco l'ho fatto a Napoli proprio il 15 agosto del 2014. Il comune di Salerno si farà carico dei venti minori presenti a bordo. Per fortuna i numeri sono gestibili, avremo 20 bambini di cui 19 non accompagnati. Quindi sarà cura nostra in collaborazione con la prefettura collocarli al meglio. Questa è la cosa che ci interessa di più, la migliore accoglienza per queste persone. A Benevento sgomberata una casa già confiscata nel 2015 ma ancora utilizzata dalle persone alla quale era stata sottratta lo Stato, ora verrà affidata ai carabinieri forestali. Saranno i carabinieri forestali di Benevento ad utilizzare l'abitazione confiscata alcuni anni fa e che ora torna in possesso della comunità. L'operazione è stata eseguita dalla questura di Benevento con il supporto delle altre forze di polizia. Programmata durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto di Benevento Carlo Torlontano. Perché lo Stato al momento aveva una parziale vittoria, cioè quella dell'avvenuta confisca, però ancora non tornava in possesso ed era anche un po' un'anomalia che un bene confiscato potesse essere ancora utilizzato. Allora da qui innanzitutto il nostro grazie al signor prefetto e alle forze di polizia e grazie anche all'arma dei carabinieri che ha dato la disponibilità, ha manifestato il proprio interesse nel riutilizzo. Poi un monito. Un territorio dove a volte il tema dei beni confiscati è visto solo come un fastidio amministrativo e non come una grande opportunità da cogliere e un'occasione invece da costruire insieme. Allora noi ci auguriamo che in modo particolare due comuni, il comune di Castelvenere e il comune di Dugenta, possano concretizzare una interessante interlocuzione che hanno in corso con la regione Campania per far sì che i rispettivi beni possano essere ripristinati. Si entra nel vivo dell'ultima settimana di campagna elettorale anche ad Avellino. In queste ore in città Vittorio Sgarbi per sostenere Rino Genovese e Mara Carfagna per Antonio Gengaro. La calata dei big ad Avellino nel rush finale verso il voto dell'8 e 9 giugno. Al Bar Plaza quella parte di Fratelli d'Italia che appoggia Rino Genovese ha accolto Vittorio Sgarbi, candidato alle europee. Tantissimi temi toccati dal sud, dalle aree interne, ma anche un passaggio sull'inchiesta che ha portato al commissariamento del comune. Il sindaco che si è dovuto dimettere, che è stato indagato, occorre vedere cosa ha fatto. Probabilmente non ha fatto nulla di particolarmente criminale. Avellino è il test di un luogo dove la politica deve riparare non a un danno della politica precedente, ma a un'azione della magistratura che ha commissariato una città. E ancora Sgarbi nel ricordare De Mita non risparmia, stoccate ai politici irpini di oggi. Vedi, Gubitosa è un po' anche per Rotondi. Gubitosa stia nella sua vallata davanti alle sue viti e stia tranquillo lì. Qual è il pensiero di Gubitosa o il pensiero di Conte? Hanno un'idea? Hanno detto qualcosa? Il mio amico Rotondi deve, invece che stare qua a fortificare i pensieri che condivide, deve correre dalla Meloni perché c'è la Meloni. Può arrivare anche mezz'ora dopo, non è che il mondo vivrà sofferenza perché Rotondi è arrivato un quarto d'ora dopo dalla Meloni. Ieri era stata la volta di Mara Carfagna, azione ad Avellino Appoggio Antonio Gengaro, e di Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc per Gennaro Romei. Questo governo in un anno e mezzo non ha mai, dico mai, istituito il comitato tecnico per le aree interne. Nel frattempo l'unica cosa che ha fatto ha bloccato i finanziamenti. Qualche mi dispiace è che è una delle poche realtà in Italia dove non si è trovata una sintesi all'interno del centro-destra per avere una candidatura unica. A Sorrento è iniziata ieri la tre giorni di Emozioni Lucane, un viaggio tra storia, gastronomia e cultura. Emozioni Lucane è un viaggio tra gusto, cultura e tradizione in penisola sorrentina. È stata la splendida location di Villa Fiorentino qui a Sorrento ad ospitare la tre giorni con in mostra i tesori culturali, storici, artistici e gastronomici della Basilicata. La location giusta per far conoscere quella che è la Basilicata in una perla come Sorrento della Campania. Fra l'altro parliamo di una regione confinante. Noi abbiamo voluto fortemente insieme al Comune questa iniziativa perché riteniamo che la conoscenza dei luoghi, delle abitudini, delle tradizioni, della storia, del cibo della Basilicata bisogna farlo conoscere e credo che questa sia un'occasione unica per poterlo fare. Siamo qui per promuovere la Basilicata in Campania che è il nostro secondo mercato e in particolare qui a Sorrento l'interesse è rivolgerci non soltanto al territorio ma anche ai numerosi turisti che sono qui in questi giorni. La formula è una formula abbastanza tradizionale, portiamo in esposizione i nostri prodotti tipici, ci raccontiamo attraverso la musica, l'arte, le tradizioni, dalla mitologia greca fino alla storia più recente. Ci sono tante affinità culturali e di interessi che discuteremo anche proprio durante i nostri dibattiti. Salerno è una città in continua evoluzione dal punto di vista urbanistico. Se ne è parlato nel corso dell'incontro organizzato dall'Ordine degli Ingegneri tra etica, deontologia e nuovi percorsi lavorativi per i giovani. Sentiamo. Ingegneri in campo per la realizzazione della Salerno Futura, grande fermento per le opere urbanistiche in città con protagonisti professionisti di ieri e di oggi un tema al centro del dibattito del convegno nazionale dell'Ordine tenutosi al San Giosef di Via Lende tra deontologia, etica e formazione. Salerno ha la sua identità precisa, i numeri sono in crescita anche per il turismo, abbiamo uno dei porti principali con i numeri più importanti nei primi dieci d'Italia per il turismo, adesso l'aeroporto e tutto questo è fatto sempre con il contributo dei professionisti tecnici e quindi degli ingegneri. Una professione in crescita che sente la necessità di coniugare lo sguardo delle nuove generazioni con l'esperienza del passato premiati nel corso dell'incontro oltre 150 senatori dell'Ordine. Colleghi che hanno maturato una grande esperienza e che l'Ordine premia con questa qualifica importante anche per la loro funzione che hanno di preparazione, formazione, di collaborazione con i giovani. Viviamo un periodo di transizione tra l'epoca analogica e l'epoca digitale che ha tantissime opportunità ma anche tantissimi rischi. Il fatto di avere una sovrapposizione generazionale anche nella partecipazione attiva al bene collettivo perché gli ordini fanno questo, sono a tutela della collettività. Ed è tutto con il nostro Tg, grazie di averci seguito, vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.